Dicevo questo che si è creata una confusione, una discontinuità di indirizzi, di consigli tali che ha creato a sua volta un problema estremamente grave, la sfiducia nelle istituzioni. Veda io porto sempre l'esempio della Svezia, della Norvegia ma soprattutto della Svezia dove la gente ha grandissima fiducia nelle istituzioni, non è servito obbligare la gente a far nulla, non c'è stato neanche un lockdown obbligatorio, ci sono state delle indicazioni per il comportamento e la gente le ha seguite fidandosi delle istituzioni. Adesso invece noi qui abbiamo creato una sfiducia totale e appena parla qualsiasi persona, un ricercatore, una persona dell'istituzione, la gente dice va beh insomma sta dicendo un'altra stupidaggine, adesso dice questo, domani dirà il contrario di questo. L'errore secondo me di fondo è stato quello di non avere la presunzione di dire il vero assoluto. Mi spiego, all'inizio della pandemia e prima della somministrazione dei vaccini avremmo dovuto dire siamo in una situazione severa che cerchiamo di gestire nella maniera migliore, dimentichiamoci il piano pandemico che non c'era e questa è una cosa gravissima, se no non saremmo stati costretti a gestirla in questa maniera improvvisata, ma apro e chiudo parentesi. Avremmo dovuto dire guardate siccome siamo costretti a prendere delle misure e dei provvedimenti diciamo repentini proprio per arginare la tragedia, potremmo fare degli errori e potremmo anche cambiare rotta conoscendo meglio il virus. Invece c'è stato il fanatismo e la presunzione del vero e soprattutto c'è stata la negazione di quello che è il principio fondamentale della scienza, il dubbio. Io personalmente sono stata massacrata e crocifissa anche dall'ordine dei medici di Milano e lo dico con responsabilità per aver fatto delle affermazioni diverse da quelle che erano le indicazioni diciamo istituzionali governative. Non è stato possibile avanzare un dubbio in tutto questo periodo, quindi la negazione della scienza che proprio sul dubbio si fonda. Sui vaccini è stato fatto un errore enorme perché l'OMS ci ha indicato 85% dei vaccinati per raggiungere inizialmente grandissimo errore immunità di gregge che non si raggiungerà mai perché non è possibile con un virus di questo tipo raggiungere l'immunità di gregge. Poi c'è stato detto no 85% non è poco, 90%, nessuno ci ha spiegato perché. Ma quali sono i lavori che attestano questo tipo di indicazione? Ognuno si alza e dice io penso così e quindi si fa così. Ma non va avanti così la cosa. La stessa cosa è l'uso dei vaccini e qua mi preme proprio sottolinearlo nei bambini. E questa cosa è terribile. Non abbiamo dati scientifici che lo affermino, che affermino l'innocuità di questi vaccini e la necessità, l'utilità dei vaccini in questa età. Insomma l'Istituto Superiore di Sanità in un anno e mezzo ci dice che nell'età da 5 a 11 anni sono morti 12 bambini che avevano il covid. Ma non ci dice se erano bambini fragili già con delle malattie. Benissimo. Ma 12 bambini che assolutamente meritano la nostra pena e il nostro rispetto. Non possono permettere a milioni di bambini di rischiare miocarditi o altri effetti collaterali per proteggere un'eventuale complicanza in un bambino con il covid. Dobbiamo avere un rapporto rischio beneficio che sia totalmente a favore del beneficio per somministrare il vaccino a questi bambini. Mi scusi mi sono dilungata. No 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 professoressa io le voglio fare una domanda precisa ma se un individuo si fa un tampone e risulta negativo e non può andare al ristorante perché il principio della tutela della salute pubblica vorrebbe che questo personaggio potrebbe contagiare qualcuno. Ma se uno ha un tampone negativo come fa a contagiare qualcun altro? Cioè il punto quello che noi ci stiamo chiedendo è ma il tampone se davvero volessimo evitare il contagio il più possibile non dovrebbe essere fatto a tutti compresi i vaccinati e non creare l'apartheid dei non vaccinati? Scientificamente le chiedo non politicamente scientificamente quello che sto dicendo ha senso o no? Eh ha tanto senso e le dirò il particolare del senso scientifico per evitare che io e lei si possa essere travisati da chi ci ascolta. Allora se io in questo momento a Maria Rita Gismondo vaccinata do il permesso di frequentare delle persone la sto autorizzando anche potenzialmente ad essere infettata ma anche ad infettare. Perché io da vaccinata posso infettare. Se Maria Rita Gismondo fa un tampone ed è negativo ha non dico al cento per cento la sicurezza perché anche il tampone ha un dieci per cento di incertezza. Ma sicuramente un 90 per cento di certezza di non andare ad infettare nessuno. Il tampone e il vaccino che sono stati confusi in un'unica tessera politica che si chiama Green Pass o Super Green Pass hanno due valori completamente diversi. Il vaccino che io riconosco utile serve esclusivamente ad una cosa che è importante ma è quella e basta cioè evitare nella stragrande maggioranza dei casi ma non nella totalità dei casi il decesso o il ricorso alla terapia intensiva. Per il resto posso infettare ed essere infettata. Quindi nell'ambito della sanità pubblica, nella prevenzione della circolazione del virus, se è anche vero che un vaccinato pare diffonda una carica virale inferiore, comunque può infettare. Quindi diciamo le cose come sono. Il valore del vaccino è per evitare l'intasamento delle terapie intensive e per evitare i decessi. Infatti statisticamente è stato valutato che con l'uso dei vaccini è stato evitato un numero pari a circa 12.000 decessi. Va benissimo ma non diciamo che un vaccinato non può infettare. Quindi non ha niente a che vedere con quanto prevede il Green Pass. Quindi una decisione sul Super Green Pass, questa che è stata assunta pochi giorni fa e che ovviamente non vedo perché io sono qua e sembro il conduttore ma sono in veste anche di senatore quindi lo chiarisco subito che io non voterò ma del resto io non ho mai votato e approvato nessuno di questi provvedimenti per tutta una serie di ragioni che credo siano ben conosciute ma non è questa la sede adesso per entrare nel merito. Ma dico quindi si può dire che è una decisione antiscientifica? Se lo scopo che dicono è quello della sanità pubblica nella prevenzione dell'infezione nella popolazione questo è fallace. Se l'obiettivo è quello di raggiungere un numero sempre più elevato di vaccinati è una maniera subdola e non diretta di raggiungere questo obiettivo.